anticipazioni beautiful trama puntate venerdì 22 aprile 2022 paris ringrazia katy per essere così buona nei suoi confronti la logan le chiede se ha risolto i suoi problemi con zoe paris le confida che la sorella le aveva scritto una lettera di dimissioni che poi ha strappato proprio davanti a lei entra eva la pubblicista che ricorda alla logan la sua storia fantastica con il magnate zoe disperata e prova a recuperare con carter che però la ritiene un capitolo chiuso arriva zende e il walton spende dure parole per lui affermando che non si aspettava che stesse tramando per rubargli la fidanzata la buckingham scoppia in lacrime e ribadisce di volere una cosa soltanto la vita che lei e carter stavano pianificando lo supplica di fidarsi di lei paris entra nello studio e ascolta la sorella mentre implora all'avvocato di ripensarci lui si rivolge a paris per scoprire se può fidarsi di una donna come zoe grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti